Ultimo giorno per il drive-in allestito nel parcheggio del parco termale della Quardens di Pescantina dedicato agli autisti dei tir diretti in Germania attraverso il territorio austriaco, obbligati ad esibire un certificato di tampone antigenico covid-19 negativo effettuato nelle ultime 48 ore. L'azienda Quardens, per alleviare i disagi degli autotrasportatori e limitare le code al Brennero, aveva infatti aperto questo punto tamponi per i camionisti. Più di 2.000 gli autotrasportatori che si sono riversati qui. Ieri era circolata la voce di spostare il servizio presso il comune di Affi al fine di agevolare la viabilità, una possibilità impedita nelle ultime ore da difficoltà burocratiche. Ricordiamo che il drive-in nel parcheggio del parco resta aperto a tutti i cittadini per i tamponi da effettuarsi in automobile, mentre per i camionisti il servizio è sospeso.